Parte dalla Sicilia un messaggio forte di pace e solidarietà in maniera da mettere la parola fine alla guerra e tutto ciò viene lanciato dall'artista di origine argentina Silvio Benedetto il quale con la sua iniziativa vuole far comprendere come l'arte possa essere da volano importante ed aiutare ad uscire da questa difficile situazione. Può essere un modo per cambiare il mondo in cui percepiamo gli altri e il mondo che ci circonda. Pertanto è un modo magnifico di promuovere qualcosa di cui il mondo ha bisogno, pace. Allora è bene che parta dalla Sicilia una voce e in questo momento che soprattutto di indignazione le furore, le passione per la pace e che parta da qui. Non che sempre uno dica ho ricevuto come neocolonia da fuori un messaggio ma che parta da qui verso il mondo. La Sicilia che alza la sua voce per la pace parte da qui. Ecco perché siamo qui. Una pietà contemporanea sarà questo il titolo dell'opera che il maestro Benedetto realizzerà su una lastra lavica dipinta smalti speciali. Un monolito di circa due metri di altezza che sarà ultimata con un trattamento ad alta temperatura per garantire la sua durabilità nel tempo. Il messaggio lo vogliamo che non sia nel retorico né nel demagogico perché si abusa. La difficoltà che possa veicolare per veicolo sano di un giornalista, uno scrittore che ama la verità e che non instrumentalizza e il messaggio è che insieme in questo secolo che io dico superbo e sciocco qualcuno in piccolo o in grande dia al suo apporto piccolo, ripeto, minuto o enorme che dia al suo apporto per dire basta a questo massacro. non finirà, ma noi non possiamo non dire basta e l'artista ha anche questa funzione. Dalla Sicilia verso il mondo, pace!